Tra poco Sul canale 17 di Fanno TV, l'informazione locale Altri due contagi nella provincia di Pesaro e Urbino salgono a quattro le persone colpite dal coronavirus nelle marche Resta in vigore l'ordinanza della regione, sulle scuole non torno indietro, dice Ceriscioli Il braccio di ferro tra Conte e Ceriscioli scatena la politica Per Carloni e Della Lega, dietro questo teatrino c'è l'opera del gran burattinaio Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia, con Marco Ferri Buonasera e benvenuti a questa edizione del telegiornale Dunque sale a quattro il numero dei contagi nelle marche, tutti in provincia di Pesaro e Urbino Oltre alla giovane di 30 anni di Colbordolo, nel comune di Vallefoglia E del 51enne di Pian di Meleto, che era in compagnia del ristoratore di Cattolica Oggi si sono aggiunti altri due casi positivi Si tratterebbe di una coppia di anziani residenti nel Fanese Intanto l'ordinanza firmata da Ceriscioli resta in vigore in tutta la regione Ceriscioli che poco fa ha rilasciato questo video messaggio che vediamo insieme Abbiamo appena terminato la prima riunione della cabina di regia dell'ordinanza Che riguarda il contenimento del coronavirus nelle marche È un incontro utile per stabilire una serie di punti che spiegano in maniera più chiara I contenuti dell'ordinanza Una circolare che domattina sarà disponibile a tutti Facilitare la vita di amministrazioni, all'interlocali E soggetti che hanno a che fare con i punti di vieto dell'ordinanza C'è stata una buona partecipazione da parte delle prefetture, dei comuni E della regione, del Gores come organo di competenza scientifica E quindi faremo questa azione una cosa utile a tutti quanti Dobbiamo aggiornare purtroppo anche il bollettino dei contagiati Perché altre due persone sono risultate positive Varrà fatta la seconda verifica Che giustamente dovrà confermare questi dati In questo momento, in attesa della verifica Sono 23 le persone che risultano positive nella nostra regione E allora c'è da aggiornare domani mattina alle 8.30 La convocazione del COC da parte del sindaco Massimo Seri Domani mattina il centro operativo comunale sarà attivo E domani pomeriggio invece, in un orario ancora da definire Il presidente della regione Marche, Luca Ceriscioli Sarà in prefettura a Pesaro Per un incontro appunto con il prefetto Per il comitato e l'ordine, la sicurezza A proposito di questa emergenza coronavirus in provincia di Pesaro e Urbino Come abbiamo detto, per quanto riguarda l'ordinanza Il governo che ha deciso di impugnare l'ordinanza firmata da Luca Ceriscioli Per Luca Ceriscioli sarà l'occasione per vedere chi ha fatto bene Se noi o il governo che si oppone Io non faccio alcun passo indietro Anzi l'impugnazione sarà utile per tutti Per la salute dei marchigiani E aiuterà il governo a tenere comportamenti più coerenti Lo ha detto Ceriscioli che ieri ha stabilito, come ormai sappiamo Insomma, la chiusura delle scuole E lo ha detto, intervistato da Radio Capital E su questo braccio di ferro tra il premier Conte E il governatore delle Marche, Luca Ceriscioli Oggi interviene il consigliere regionale della Lega Mirko Carloni, sentiamo Era il signor Conte che ha chiamato perché ha chiesto di Ha fatto scalpore la smentita indiretta da parte del premier Conte A conferenza avviata di Ceriscioli in regione lunedì mattina Durante la quale il governatore annunciava la chiusura delle scuole E altri provvedimenti di contenimento alla propagazione del virus Un waltzer di annunci smentite e conferme di provvedimenti da parte della regione E impugnazione degli stessi provvedimenti da parte del governo Che non ha fatto altro che alimentare caos e disorientamento nei marchigiani Un gioco di potere sul quale anche la politica locale I vari partiti d'opposizione, Lega in testa Hanno fermamente condannato questo braccio di ferro Dove a farne maggiormente le spese sono i cittadini Io sono stato l'unico domenica già a aver formalizzato al presidente Ceriscioli Una richiesta per fare un'ordinanza Era necessario come misura di prevenzione Che significa prevenire quando il problema ancora non sussiste E anche dare la possibilità ai cittadini Alle forze dell'ordine, ai sindaci e alle scuole Ma soprattutto al personale sanitario Di avere dei dispositivi che in qualche modo informassero In modo chiaro su quali erano le misure da adottare Di fronte ad un rischio Che dobbiamo dirlo per chiarezza Non bisogna fare allarmismo e non bisogna nemmeno generare panico Però bisogna comunque attivare delle misure di precauzione Non bisogna far finta di nulla ma nemmeno esasperare gli animi Secondo lei c'è un grande burattinaio dietro questo caos istituzionale? Beh sicuramente io credo che la telefonata di Conte a quell'ora Mentre Ceriscioli era in diretta televisiva con un milione e mezzo di persone Avesse non solo un burattinaio ma qualcuno che evidentemente Aveva più interesse a far far brutta figura Ceriscioli Piuttosto che alla salute dei cittadini Questo lo penso sinceramente Su questa vicenda serve la politica in queste situazioni Quando sa prendere delle decisioni in modo fermo, chiaro E mette i cittadini, gli operatori, le istituzioni Nelle condizioni di eseguire determinate linee Sapendo che un rischio di panico c'è in queste situazioni Oltre che un rischio per la salute Allora qui abbiamo assistito ad un carosello Ad una giostra di chiacchieroni Che in queste ore si sono dati addosso Fuori e dentro le stanze delle istituzioni Per una lotta che è quella delle regionali del prossimo anno Cioè dentro PD c'è una divisione tra chi non vuole più Ceriscioli e chi lo vuole Compreso Conte che mi pare entrato a gamba tesa in questo dibattito Cioè ancora ieri sera Quando era evidente che c'era già un caso conclamato nelle Marche Il governo ha convocato il Consiglio dei Ministri Per fare l'impugnativa alla Corte Costituzionale dell'ordinanza Cioè un governo che non si è accorto delle Marche per quattro anni Abbiamo ancora le macerie da spostare di un terremoto Oggi le Marche sono diventate il loro problema Perché dovevano bloccare Ceriscioli E secondo me dovevano fargli fare la figura Ok? Allora abbiamo raccontato ieri del primo contagio nelle Marche Il primo contagio avvenuto in provincia di Peso Urbino Nel comune di Colbordolo Nel comune di Vallefoglia a Colbordolo Ebbene oggi, questa mattina, Lino Balestra Con l'operatore Stefano Barniesi Sono andati proprio nel piccolo comune del Pesarese Vediamo La comunità come sta vivendo questa notizia E anche voi come amministrazione Quali sono le vostre impressioni di queste prime ore? Bisogna evitare secondo me di drammatizzare Perché se noi diamo uno sguardo all'orizzonte anche internazionale Gli altri paesi controllano di meno Drammatizzano di meno E non bisogna sottovalutare ovviamente Se ne occupa anche di questo caso Dei casi che ci sono anche sull'area di Cattolica del Conca O su altre aree Il Servizio Sanitario Regionale e Nazionale Il Servizio Nazionale deve confermare Se è positivo o meno in questo caso Pare che non abbia avuto contatti Se non con la madre lamorosa Che sono risultate negative Quindi speriamo che possa la situazione Evolvere al meglio Credo che abbia fatto bene il Presidente della Regione A demettere un'ordinanza Perché è meglio prevenire che curare i mali E sono mali curabili Perché da quello che abbiamo Dei dati nazionali Che ci comunica il sistema sanitario nazionale Se non le persone che già sono in situazioni di forte gravità Riescono tutti a recuperare Ad essere curati e guariti Queste sono le parole del Sindaco di Vallefoglia Palmirucchielli che naturalmente esprime Attenzione per quello che si sta verificando Ma invita chiaramente a tranquillizzarsi Da parte della cittadinanza E ad avere un atteggiamento positivo e reattivo E a non, se possiamo tradurlo Affasciarsi la testa prima ancora di rompersela Le istituzioni e la fiducia nel sistema sanitario E nella Regione espresse dal primo cittadino Sono molto chiari Ma sentiamo anche cosa ne pensano i cittadini La gente comune che sta vivendo queste ore Dopo l'annuncio del caso di positività al coronavirus Avete sentito che qui a Vallefoglia c'è questo caso? Sì, 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 stamattina il suo collega Ecco, come la state vivendo un po'? Normalmente Perché tanto Se si preoccupa uno è sempre quella E allora la prendiamo così con filosofia Se dice c'è perché io lo studiate Non so Io non la vivo così male Nel senso che preoccuparsi un po' sì Ma mi sembra un po' l'esagerazione Invece tra la gente, visto che lei... C'è un bel marasma Sì, eh? Sì Non l'hanno vissuta bene? Secondo me no Anche perché poi adesso col fatto qui proprio nella zona Un po' di preoccupazione C'è Si inizia a vedere qualcuno con le mascherine, ho visto Il fatto che ci sia stato un caso qui nel vostro comune Non c'è nessun problema Non sposta niente? No, no, è sempre quella Io sono tranquillissimo Vita tutti i giorni Sì, sì, è normale Sì, sì, è bar spesa È casa È un po' in ansia, dico la verità Sì, quello sì Anche il bambino con le scuole chiuse comunque Esatto Cerchiamo di viverla così Andiamo avanti, vediamo Non andare in posti affollati Però due robe di spesa servono quindi La clientela ha creato qualche apprezzione Se avete avuto domande strane, cose particolari Un po' insolite rispetto alla norma Ma non più di un tanto Perché le domande sono sempre le solite Non è che questa abbia fatto la differenza Richiesto di materiale di mascherine Di gel per le mani Ma nulla di più Non è che c'è stato un allarmismo superiore Anche perché poi il comune È un comune molto efficiente Di conseguenza sono sicuro che non è una cosa Che possa creare la differenza L'atteggiamento quindi di reazione positiva Che abbiamo riscontrato nelle persone che abbiamo fermato Intervistato poco fa Quindi è stato anche confermato dal farmacista Che non ha rilevato in queste ore In cui c'è stato l'annuncio del tampone positivo Atteggiamenti particolari da parte della sua clientela Bene, bene ricordare che nella regione L'unico caso confermato dall'Istituto Superiore di Sanità Ed è quello che Conte, che certifica È quello di un trentenne di Vallefoglia Di cui abbiamo appena parlato Che è tornato da Codogno in Lombardia Dove lavora e che è ricoverato Precauzionalmente in buone condizioni Nel reparto malattie infettive Del San Salvatore a Pesaro I Vescovi, i Vescovi delle Marche Hanno sospeso tutte le messe E le attività legate alle parrocchie Vediamo Dopo l'ordinanza emessa dal Presidente della Regione Luca Ceriscioli Di chiudere le scuole E di sospendere tutte le manifestazioni pubbliche Anche i Vescovi delle Marche In un comunicato stampa Hanno diffuso delle regole comportamentali Da applicare per combattere la diffusione del virus Le disposizioni emanate nel comunicato sono Evitare in ogni modo la concentrazione di persone In luoghi ristretti e per lungo tempo Sospensione delle celebrazioni eucaristiche Feriali e festive fino al 4 di marzo Le chiese rimarranno comunque aperte al culto E alla preghiera ma individuale Possibilità di svolgere funerali In forma breve e solo con parenti stretti Evitare nello svolgimento delle celebrazioni Il segno della pace Ricevere la comunione solamente sulla mano E non in bocca Togliere l'acqua benedetta dalle acquasantiere Sospensione delle benedizioni pasquale delle famiglie Fino al 4 di marzo Sospensione degli incontri di catechismo Dei gruppi parrocchiali E di tutte quelle attività legate alle formazioni Ai doposcuola e agli oratori Sospensione dei servizi della Caritas parrocchiale I vescovi immediatamente hanno chiesto Di sospendere tutte le celebrazioni feriali e festive Laddove ci sono quindi aggregazioni di persone Quindi in questo giorno in tutta la nostra diocesi Non si celebrerà il rito delle ceneri Questo però non vuol dire che le chiese siano chiuse Cioè la possibilità di entrare in chiesa Di pregare Il vescovo tra l'altro nel nostro sito Ha emesso anche una sua riflessione sulla quaresima Che si può leggere in famiglia Si può leggere il Vangelo di questo giorno Per dire il Signore non ci abbandona E noi non abbandoniamo le persone Ma nello stesso tempo però dobbiamo attenerci Perché qui al di là anche di facili Potremmo dire di un facile rivolgersi a Dio Perché ci aiuti Occorre anche seguire quello che la scienza In questo tempo sta facendo E quindi una preghiera particolare Perché gli uomini di scienza Possono realmente arrivare a una soluzione I vescovi delle Marche in questo loro messaggio Ci dicono anche Ecco tutta la loro vicinanza Ci chiedono di pregare in particolar modo Per coloro che sono stati colpiti dal coronavirus Quanti in modi diversi si adoperano Per limitarne le conseguenze In particolare il personaggio sanitario E coloro che sono impegnati nella ricerca scientifica Terminano chiedendo a tutti E qui lo possiamo fare tutti Con un invito alla preghiera In particolare alla nostra patrona Alla patrona delle Marche Che è la Madonna di Loreto Ci affidiamo a lei E alle mani e alle menti sapienti degli uomini Ieri nel corso del nostro telegiornale Vi abbiamo fatto vedere un po' La situazione all'interno dei supermercati E alcuni scanfali Li abbiamo trovati effettivamente vuoti Ma a tranquillizzare sulla situazione E sui rifornimenti È Fausto Baldarelli Responsabile sindacale della CNA di Fano Nei giorni scorsi Sull'onda emotiva Dettata dall'emergenza coronavirus I supermercati Soprattutto tra lunedì e martedì Sono stati letteralmente presi d'assalto Dalla clientela Una corsa all'acquisto spasmodica Di incontrollata Di genere alimentari Principalmente di prima necessità Che ha messo sotto stress tutto il sistema Operatori, esercenti, personale addetto Nonché, come ci hanno riferito Gli stessi gestori Anche il meccanismo degli approvvigionamenti Sull'onda di questa ingiustificata Onda anomala di acquisti Le associazioni di categoria Invitano alla calma E a non farsi prendere Da acquisti compulsivi irrazionali Non c'è motivo di questa corsa all'acquisto In quanto la merce Non scarseggia, ci dicono E non ci sono emergenze alimentari in corso Secondo i responsabili locali della CNA Volevo tranquillizzare i cittadini di Fano Che sono stato contattato Da alcuni operatori commerciali Del settore alimentare Che i prodotti alimentari Sia freschi e in scatola Ma i prodotti alimentari in genere Presso i magazzini Sono a disposizione Quindi evitiamo le corse alla compera Evitiamo di farne corse dentro supermercati Perché sia la roba fresca Sia tutti i generi alimentari Il latte, il zucchero I generi alimentari primari Sono a disposizione Quindi i camion, i mezzi Arrivano tranquillamente Quindi evitiamo situazioni di difficoltà Tra virgolette anche situazioni di panico Ma stiamo tranquilli Perché nella nostra città Non si verificano crisi di scorte alimentari Anzi, viviamo questo periodo delicato Con tranquillità e con serenità Perché nel supermercato Nell'alimentare vicino a casa Nel negozio di prossimità I prodotti sono a vostra E anche a mia disposizione Quindi è una città che La crisi, diciamo, del virus La deve vivere con tranquillità Soprattutto anche da un punto di vista psicologico Anche per quanto riguarda Come dicevo Le scorte alimentari E adesso cambiamo pagina La cronaca Parco Miralfiore a Pesaro Rimane sempre una zona di spaccio Nonostante sia continuamente sotto controllo Da parte delle forze di polizia In tarda serata Ci sono stati dei controlli E sono stati individuati alcuni spacciatori E' stato arrestato ieri al Parco Miralfiore Dagli uomini della mobile di Pesaro Per reati legati allo spaccio di stupefacenti Ma rimesso in libertà dal giudice Dopo il rito per direttissima Celebrato nella mattinata odierna Dopo aver convalidato il suo arresto E averlo condannato Ad una pena di un anno di carcere E 2000 euro di multa A finire nelle maglie della giustizia Un nigeriano di 26 anni Al quale è stata rigettata la domanda di asilo E quindi irregolare sul territorio italiano Nulla facente Già con precedenti Che da circa due mesi Era dedito allo spaccio Nella zona del parco Gli uomini della squadra mobile Appostati nei pressi Si sono accorti Di due tossicodipendenti Già note alle forze dell'ordine Avvicinarsi al nigeriano Che gli ha andato incontro Ma che si è accorto Delle forze dell'ordine E quindi ha tentato Di darsi alla fuga Ha fatto poca strada Perché gli agenti Lo hanno subito bloccato E perquisito Trovandogli addosso Due dosi di eroina Certamente Destinata ai due clienti Gli uomini della questura Si sono accorti Che ultimamente Le operazioni di spaccio Per i continui controlli Delle forze dell'ordine Si sono spostate In tarda serata Nei paraggi del parco Nel tentativo Di eludere I controlli E pertanto Hanno predisposto Appositi servizi Di appostamento In diverse fasce orarie Della giornata Cosa Che ha portato ieri All'arresto Dello spacciatore A Fano invece Un'operazione Del commissariato Ha portato Nella notte scorsa All'arresto In flagranza di reato Di una banda Di ladri pendolari Originari dell'Est Specializzata In reati Contro il patrimonio Gli agenti di polizia Coordinati Dalla dirigente Stefano Seretti Alle 5 del mattino Hanno catturato Il sodalizio Composto da tre individui Dopo un rocambolesco In seguimento Nel cuore della notte La banda È stata portata Nelle celle di sicurezza Vedete le immagini Di riferimento E questa mattina Trasferita a disposizione Dall'autorità giudiziaria Sono state portate Nel carcere Di Villa Fastigia Pesaro Tutti i particolari Di quest'operazione Saranno illustrati Nel corso Dei prossimi giorni Chiudiamo Ricordandovi Che Per quanto riguarda La rappresentazione teatrale Siamo Alla pagina Gli spettacoli Del guitto Il guitto Ha rinviato Le date Degli spettacoli Dopo l'ordinanza Della Regione Marche E dunque Salvo ulteriori proroghe Le date Del 26 e 2 marzo Dello spettacolo E il bar Sotamunjov Sono rinviate Rispettivamente Al 9 e al 10 Di marzo I biglietti Già emessi Sono validi Per le nuove date Secondo le Seguenti modalità I biglietti Di mercoledì 26 Sono validi Per lunedì 9 Invece Quelli di lunedì 2 Marzo Sono validi Per martedì 10 Marzo E' tutto per l'informazione Grazie per averci seguito Per tutti gli aggiornamenti Vi rimandiamo al sito Occhionanotizia.it Ci vediamo domani Invece alle 7 Alle 7 del mattino Con la lettura dei giornali E la rassegna stampa Arrivederci Sotamunjov